Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo episodio di Grow Home Allora, eravamo rimasti nell'ultima puntata eravamo lassù, sulla nostra piantona e ci eravamo un po' guardati attorno io nel momento in off camera sono sceso e ho aperto il portale del teletrasporto in modo da rincominciare questa posizione ma esploderemo un pochettino questo nuovo mondo che abbiamo trovato prima faccio un fiorellone un fiorellone con un liquido strano all'interno oh, urca! Volo! bellissimo e cadiamo di qua e questa? non mi sono mai rotto perchè? strano come cosa di solito cado da delle altezze improponibili non mi facevo nulla guardate che c'è un cristallo ecco sotto ah, ci sono i miei pezzi anche ok qui c'è un canalone bellissimo e poi ci sono queste piante qua ah, quella lì c'è un cristallo sopra tra l'altro rampichiamoci e si piega per terra ehi, come si fa? ok, così tira olè siamo a 45 cristallo e li andrò a vedere cosa... uff, il frutto si è staccato un frutto vabbè un po' come quelli che abbiamo trovato fino a ora in giro e queste sembrano le... le bacche quelle dei... dei pokemon come che chiamano le... le... le perbacche no? non mi ricordo più come si chiamano bene non c'è... niente di... così interessante in giro giù c'è un... un cristallo là dietro ma come faccio ad arrivare là sopra? oh, oh, oh non cadere non cadere non lo so non lo so ah già dovevo andare a vedere col fiorellone gigante andiamolo a vedere tra l'altro guardate quanti cristalli mentre raccogliamoli tutti ok no, 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 no ok ah, c'è la corrente potente ok il fiorellone chissà che cos'è qua c'è un'altra isoletta qua sotto c'è un altro cristallo qua sotto c'è un altro fiorell... un altro cristallo ah tra l'altro ho raccolto una foglia quindi adesso abbiamo la foglia per volare ehi foglia bellissimo la facciamo uscire poi esce e poi ci porta come stafasore di fiori però penso che durino infinito ancora devo provarla bene cosa farà questo fiore gigantesco e ora è bellissimo ma che si stia dimenando ci ha ci ha fatti cadere e penso che sia stato lui continuiamo l'esplorazione uh laggiù c'è qualcosa una caverna via i massi no 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 è acqua no 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 47 cristalli ehi 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 continuo mistero cosa sei tu ci fai male non so non so non ho voglia di provare se vuole farci male oppure no vediamo saltiamo l'ingropa oh ho oi caMo il toro ho ho non sembra comunque volerci troppo male non male ecco sotto ecco sotto che c'è una foglia ah siamo qua oddio allora come torniamo su in quanto è cristale lascio c'è un altro oh questa si stacca dov'è? ah eccolo là di qua e di qua e di e di là dopo voglio collegare qualche isolotto in modo da fare un po' di progress accogliamo solo più questo e poi non saprei andiamo in quella piattaforma di teletrasporto che c'è là giù ma che funziona così bellissima la foglia lei ci permette di volare anche in altezza bellissima no è volato via no non cadere e ora? e ora non ci resta che era piccaccio guardate che si arrotola su se stessa guardate che si arrotola su se stessa ohь o' la o' la o' la pad è che è il campione alieno di Free Climbing qua c'è un cristallo poi lo prenderò ci siamo quasi andiamo a colpa d'un colore partiamo direttamente verso la prossima isoletta ok ci siamo quasi ragazzi ci siamo quasi ah un'altra cosa che ho trovato girando per l'isola adesso dovremmo collegare 8 8 isolette comunque un'altra cosa che ho trovato nell'isola la dietro quella montagna delle piante carnivore che ti mangiano si allora la prossima isoletta è subito qua di fianco quindi spersiamo su 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 ok andiamo in direzione giusta dai che ce la facciamo dai pochissimo ok collegata ora la pianta cresce cresce sempre di più bene 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 allora adesso dove andare guardate quanto cresce benissimo benissimo si è fermata allora qua sotto ce n'è uno e laggiù ce n'è un altro da questa parte da questa parte però abbiamo delle si ce n'è una lassù andiamo lassù oppure là però per andare di là ora dovremmo cominciare a fare lì mi sa che non ce la facciamo per cui facciamo qualche tiro ok siamo belli in alto dove che dobbiamo andare? dobbiamo andare lì lì la e l'eru fondamentalmente qua sopra ok usiamo questa in alto in alto andiamo verso quello raggiù mi sa che non ce la facciamo neanche con questa cominciamo ad essere veramente albi eh in alto è un altro andato uhuuu guardate l'altezza ok ne abbiamo uno a molto favore dove stai andando pad? dove stai andando? dov'è che me? dimmi è andato di qua ok preso al volo allora guardate guardate l'astronave wow quindi siamo così arrivati hmhm chissà cosa succede una volta che arrivi in basso forza forza questo ce lo riusciamo a collegare sì sì sono fiduciato a me sembra che diventino sempre più difficili da controllare questi affari secondo me non ce la facciamo no non mi dire ah ancora uno inoltre non ho neanche un fiore nulla ragazzi oggi però vi devo dare questa brutta notizia ho poco tempo per cui il video finisce qua se il video vi è piaciuto lasciatemi un mi piace un commento e ci vediamo al prossimo video grazie per avermi guardato